Non ho mai fatto mistero del mio non gradire il mondo Marvel, soprattutto MCU, ma anche il mondo Marvel in generale, nel senso che preferisco di gran lunga la DC come personaggi, non tanto il DCU che è stato disastroso o altri progetti, ma l'idea della DC rispetto alla Marvel è sicuramente più accattivante. E quindi arriva X-Men 97 finita da un giorno e mezzo, anche meno, e io l'ho guardata per tutti gli episodi, piano piano che andava avanti, no? Ok, e devo dirvi che, ancora prima di darvi i miei giudizi, ero molto curioso, perché sembrava una cosa diversa, perché è una serie sequel di una animata degli anni 90 che non ho guardato, perché non guardavo la Marvel, a malapena i film di Barton, figuratevi, è ovviamente la serie animata di Batman che ho portato la recensione sul canale, vi metto qua almeno il primo blocco se siete interessati. E quindi questo X-Men 97 lo attendevo, perché c'era qualcosa di diverso, ho visto il pilota, i primi due, ho detto, ah, perché c'è già un colpo di scena, se vogliamo, al secondo episodio, per chi l'ha vista, ma qua è tutto lo spoiler. Salve, sono Alcalino Almer, benvenuti sul mio canale, iscrivetevi, puntiamo ai 1400 iscritti e ovviamente abbonatevi se arriva col tasto qua sotto, due caffè al mese. Comunque sostenetemi come potete, come volete, si può fare con un like, con una condivisione, anche solo un commento per sapere che ci siete, quindi che vale la pena di stare sul pezzo e portarvi ogni giorno una recensione nuova e di un prodotto che o esce al cinema o su piattaforme, insomma. Va bene? Allora incominciamo, non ci perdiamo in chiacchiere. X-Men 97, come detto, sequel della serie animata del 92, insuperabili X-Men, va bene, che è debuttato il 20 marzo su Disney+. È stata già annunciata una seconda stagione e una terza. La seconda appare piuttosto evidente per come si chiude la serie. E incominciamo da qui. Il finale, proprio l'ultimo episodio, una parte dell'ultimo episodio, è davvero accattivante. Devo dire che è a colpi che quindi sono curioso e voglio vedere una seconda stagione, perché hanno trovato una trovata originale. Ecco, e questo è già un punto di forza che ci indica però il problema, inizio da qui, della serie X-Men, questa 97, che ha delle ottime qualità, sicuramente si stacca da tutte le altre serie Disney+. degli ultimi anni, perché riesce a essere originale. È piena di passione, soprattutto. Si vede che chi ci ha lavorato dietro è un grande appassionato di questa materia, di questo argomento. E quindi è chiaro che c'è l'amore in questi personaggi che sono squaccettati. Che sono gli X-Men classici che tutti conosciamo, che ha visto i film di Singer, ovvero il solito gruppo Ciclope, Jean Grey, Xavier, Charles Xavier, come dico nella lingua originale, Magneto e altri, ma ci sono anche alcuni che non ne ho mai visto, come Morpho, si chiama così, poi c'è, vabbè, c'è Tempesta, Logan, ok, Morph, scusate, vabbè, bestia, Gambit, che ho visto raramente, però, Jubilee, Alfiere, vabbè, c'è anche Nightcrawler, ce la farò, Nightcrawler, e poi c'è questo nuovo personaggio da Costa, Roberto da Costa. Quindi nuovi personaggi che comunque riescono a essere interessanti, secondo me, nel complesso, alcuni un po' sacrificati, perché Wolverine non l'ho sentito. proprio non c'è, soprattutto se abbiamo l'idea del Wolverine di, che non viene il nome dell'attore, Hugh Jackman, ecco, ci sono arrivato dopo 28 minuti, Hugh Jackman che è molto, come dire, tormentato, invece qua è un giocarellone, è un giocarellone. E i soliti focus su Magneto, Xavier, ma non voglio dire niente. È chiaro che il difetto, tornando indietro, è che sì, c'è un sacco di passione dietro, ma allo stesso tempo è molto prevedibile, nel senso che mi è parsa la solita storia degli X-Men, cioè loro che devono lottare contro l'umanità e le sentinelle. Ora, chi gestisce le sentinelle, umani, non umani, questa è la serie che ce lo dice, ma è sempre la stessa cosa. Quindi dopo un po', diciamo, che qua si sono sforzati un po' di più nei personaggi, ma la sala principale è un po' sempre la stessa. Andiamo su il pregio, perché il gran difetto è questo, un po' prevedibile, quindi per i fan dei fumetti, il paradiso, perché... Ma c'è la citazione? Io non ne ho vista mezza di citazione, ovviamente solo quello che c'è su schermo. I pregi, sicuramente l'animazione, che è vintage ma funziona, cioè non pare brutta, è di un altro tempo. Ecco, quindi ci sta, visto che è anche il seguito di quella del 92, quindi in questo senso funziona. Il montaggio è abbastanza scorrevole, quindi va bene. I personaggi ci sono, quindi è una storia che si lascia guardare. Tutto sommato ci sta, ci sta. Anche se si vede che è un prodotto seriale di un'alta generazione, perché il centro è la lotta, è la lotta, è basta, senza dire altro. Ma si vedono che alcuni episodi sono o troppo brevi o troppo veloci. Come dire, non hanno adattato la storia, che è tipica della serie del 92, è quello che ho capito, che ogni episodio da 20 minuti c'è una storia, a una più ampia, quindi è un po' così. Dieci episodi da 25 minuti al netto, questo qui. Quindi nel mio complesso gli do un 5 e mezzo con il cuore, quindi un 6, strippa un 6 così, perché, diciamo, il villain è figo da vedere, fighissimo, ma ste motivazioni sono un po' gnie. Sì, ma perché nei fumetti? Sì, mi sono informato nei fumetti. Però, su schermo, è un po' un gnie gnie. Ecco, è il tipico villain della Marvel, ma più figo. E mi è piaciuto, diciamo, tutta la parte iniziale, in parte quella centrale, il finale un po' deludente, ma la seconda parte dell'episodio finale è molto figo. Quindi, alla fine è un 5 e mezzo con il cuore. Ve la consiglio, è breve, scorre veloce, e se non siete a conoscenza di questi nuovi personaggi, o vecchi personaggi storici degli X-Men, come Jubilee, che ne so, il primo che mi viene in mente, andate a vederla, perché vi farete una piccola cultura in merito. Quindi andrei in parte spoiler consigliandovelo, comunque. Va bene? Spoiler. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eccoci in parte spoiler, velocemente. Giusto 2-3 minuti, eh, non stiamo tanto, perché... Cosa mi è piaciuto di questa storia? L'inizio, perché c'è la fake Jean Grey, che in realtà è quella che ha creato Sinistro, si chiamano così? Perché qua devo stare attento. Sinistro, sì, Mister Sinistro. Che è questo villain della serie del 92, che ha scambiato. Cioè, la vera Jean Grey è rimasta dentro la Fenice, mentre quella nuova era un clone mandato da... ti chiami? Sinistro, per farle... fare un figlio con Ciclope, per poi rubarlo, che è Nathan, che è quello di Deadpool, che va nel futuro, no? Ok, figo, figo, poi si perde, però, sta storia, così. Poi c'è Ginoscia, quindi il centro, lotta contro le macchine, come si diceva? Ne sono già dimenticato. Ok, Sentinelle, ecco, contro le Sentinelle, funziona, super classico, c'è Magneto, che ovviamente è quello che dice, voglio distruggere tutto, però Xavier che torna, perché era stato detto che fosse morto, in realtà torna, ma guarda un po', surprise, dice, no Magneto, tu sei buono, come me, sempre quella storia lì, che comunque mi ha emozionato, perché l'ultimo episodio si apre con una sorta di flashback, perché Xavier è iniziato nella mente dell'amico, quindi fa vedere queste un po' flashback, figo, 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 quindi funziona, le coppie, diciamo, funzionano pure qui, perché c'è, non voglio sbagliare i nomi, qua, se no i fan mi uccidono, Roberto con Jubilee, mi pare sì, Jubilee o Rogue, Jubilee forse, vabbè, mentre l'altra Rogue, in caso sto scambiando i nomi ragazzi, vabbè, è innamorata di Magneto, insomma, una roba del genere, funzionano le coppie, c'è Gambit, che sta sempre lì, perché aspetta che, o Jubilee o Rogue, di cui non ricordo il nome, ci stia, poi in realtà non ci sta, ma muoiono tutti, alcuni, a Ginoscia, mi è piaciuto quel colpo di scena, ma può essere Redconnato, al finale della serie, che ti mostra dove, dopo aver sconfitto nello spazio, Bastion, di cui ora andiamo a parlare, e gli eroi si dividono, e viaggiano nel tempo, ci sono il gruppone, quindi Xavier, Bestia, Bestia, Nightcrawler, Jubilee, mi pare, o Rogue, finiscono nell'antico Egitto, che però non è nell'antico Egitto, perché è super tecnologico, però è Past, scritto nel passato, mentre abbiamo Ciclope, Jean Grey, che vanno in questo futuro, dove incontrano loro figlio Nathan, di un'altra terra, quindi il multiverso, figo, funziona, funziona, c'era su Bastion, giusto così, è fighissimo da vedere, diventa tutto cyberpunk, meccanico, perché lui controllano le macchine, perché ho letto che anche nei fumetti è così, però il motivo per cui c'era con i mutanti, è debolissimo, cioè è molto, è figo da vedere, come combatte, ma poi ci c'è poca, quindi è una serie che è un po' raffazzonatona, ecco, però funziona, tutto sommato ha un cuore pulsante, vale la pena di continuarla, anche perché non ha queste pretese, non è Wakanda Forever che ti fa due palle così, capito, non è neanche Eternals, quindi è una roba che ti guardi un po' alla volta, aspetti qualche colpo di scena, io non leggo i fumetti, quindi rimango anche molto sorpreso, quindi ve la consiglio, non è eccezionale, è mediocre, ma per la Marvel, questo è oro colato, sono sicuro che l'ho sentito di Ed, dai fan incredibile, questa serie è bellissima, non colpisce l'attenzione del grande pubblico, perché evidentemente è di nicchia per chi ha letto i fumetti e chi è scontento della Marvel, non tanto per chi va a vedere un film all'anno al cinema, ma per chi è infogliatissimo, e quindi sta attento a tutti i rumor, a tutti i camei di Deadpool e Wolverine, cioè è questo, vabbè, vi saluto, bella ragazzi, iscrivetevi, abbonatevi, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto, e se nel caso faccite gli spoiler, ma al solito lasciate gli spazi, scrivete spoiler, e poi sotto, così che non si legga subito, insomma, lo spoiler, va bene, vi saluto, bella, e buon sabato mattina, a questo punto, sì, perché esce sabato mattina, ciao ragazzi.